E benvenuti alla Mazzacaffè. Registro questo podcast dal camerino della televisione perché sta per tornare in onda dopo la pausa estiva il mio programma, le parole, e sono un po' emozionato, devo dirvi, non tanto dal ritorno della televisione ma quanto da questo nostro incontro settimanale che mi sta regalando davvero tantissime emozioni, spero qualcuna anche a voi, perché grazie ai vostri commenti scopro davvero ogni volta che magari credo di aver scritto una cosa e invece poi a voi ne è arrivata un'altra. Questo è bellissimo perché vuol dire che c'è una componente inconscia in quello che facciamo e voi me la rilelate ogni settimana. Insomma, tutta questa lunga chiacchiera era per introdurre il nostro Mazzacaffè. L'Ammazacaffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. E comincerei da quello dedicato a Asia Argento intitolato In difesa di Asia. Dice Asia Argento che nessuno si uccide per una battuta cattiva. Sicuramente il rapporto causa-effetto è più complesso di come lo liquidano i suoi odiatori superficiali. Riassunto delle malignità precedenti. Un biografo dell'ex compagno morto-suicida, il cuoco Anthony Burden, rivela l'ultimo scambio di messaggi fra i due. Messaggio di lui, posso fare qualcosa? Lei, non rompermi le palle. Lui, ok. Da qui a imputare il suicidio all'attrice, il passo è breve, ma fraudolento. In teoria uno dovrebbe sempre rivolgersi agli altri come se fosse l'ultima volta che parla con loro, quindi con grande gentilezza. Ma alzi la mano chi nell'ultimo anno non ha mai mandato al diavolo, almeno una volta, un parente, un amico, un collega, in qualche messaggio vocale o scritto la comunicazione dal vivo, quella ormai è un vezzo per nostalgici. Ma se il bersaglio del nostro malumore si fosse tolto la vita il giorno dopo, qualcuno in coscienza potrebbe attribuircene la colpa? Come dice Asia Argento, che deve averci lavorato sopra parecchio, il suicidio è il gesto estremo di chi è in cerca di sollievo. Non esiste una causa scatenante e improvvisa, ma una lenta deriva che può subire un'accelerazione in condizioni particolari, nel caso del suo ex compagno per esempio era l'alcol. L'unica educazione sentimentale che possiamo forse trarre da storie malate come questa è che l'amore salva solo chi si è già salvato da solo. Infatti l'amore funziona da specchio, non ti fa innamorare di chi vuoi, ma di chi sei. Se tu in quel momento sei caos, incontrerai persone che producono caos. Per incontrarne una che ti faccia bene, devi prima stare bene tu. Maria Teresa commenta a proposito della prima parte del pezzo, quella dedicata al tema della depressione. Amici, parenti che hanno deciso di tagliare il filo della loro vita hanno lasciato in me il rimorso di non aver capito, di non essere stati in grado di essere lì vicino a loro in quel momento. Ho sempre pensato che una parola, una sola, detta al momento giusto, avrebbe potuto frenare la corsa verso il precipito e invertire il percorso. Invece non è così, non è così cara Maria Teresa. Un senso di colpa che tanti hanno, insomma, non te che mi nascondo, c'ho scritto un romanzo sopra, fai bei sogni, quindi io l'ho vissuto sulla mia pelle da bambino e mio padre ha passato tutta la vita a sentirsi in colpa per non aver capito che mia mamma aveva intenzione di fare quello che fece e addirittura di essere svegliata nel cuore della notte e averla trovata nel mio capezzale, stava rimboccando le coperte e non avere minimamente sospettato che fosse venuta a dirmi addio. Ed è tornato a dormire al cuore della notte ed era la cosa giusta quella che ha fatto, ovviamente, ma non se l'ha mai perdonato. Invece no, dobbiamo capire che chi arriva a compiere certi gesti non lo fa per una dimenticanza dell'ultimo minuto o per una reazione, né può essere fermato in qualche modo. Sono meccanismi, percorsi estremamente complessi che vanno anche in qualche modo rispettati. Alessandra dice che le spirali di abbandono sono pericolosissime, se ci entri poi è molto difficile uscirne. Proprio così. Concludo con un bellissimo messaggio di Eleonora. Ho sofferto di depressione, bellissimo, in senso molto profondo, di depressione, con ansia, attacchi di panico, agorafobia. E ciò che mi ha salvato è stato proprio l'amore verso me stessa. Ho dovuto rivolgermi a uno specialista per ristabilire quello che possiamo chiamare la chimica del cervello e mi ha restituito la vita. Oggi sono più forte. Certo, mio marito mi ha aiutato, anche i miei figli, ma chi si è rimboccata alle maniche è innanzitutto la sottoscritta. Ed è un bel messaggio quello che ci dai Eleonora, quello che ho provato a dire anche io nel fondo del pezzo. Alla fine non dobbiamo cercare la salvezza negli altri. Gli altri ci aiutano ovviamente, ma la salvezza dobbiamo trovarla innanzitutto dentro di noi. Non tutti ce la fanno però. Anche perché il mondo intorno è duro, è difficile. Questa settimana è una storia presa da un programma televisivo che tutti conoscete, il Grande Fratello, che al di là di quello che si può pensare è però un evidente esperimento sociale. Metti insieme delle persone che tra di loro non si conoscono, si conoscono poco e vedi che cosa succede, che dinamiche scattano, che sono poi le stesse più o meno dinamiche che scattano nella vita reale. Certo, con un'aggiunta, diciamo, di esibizionismo dovuta alla presenza delle telecamere. Ma alla fine chi sta lì mi ha detto, dopo un po' si dimentica delle telecamere, finisce proprio per comportarsi come ci comportiamo noi e vederli, queste persone, è proprio come vedere noi allo specchio. Ho fatto un articolo intitolato Il dolore dei bulli e lo rileggiamo insieme. Davvero, davvero la sofferenza rende migliori? Tra i concorrenti del Grande Fratello che hanno guastato la vita al fragile Marco Bellavia, il concorrente che ha deciso appunto di ritirarsi perché si sentiva bullizzato, c'è una certa Ginevra Lamborghini bullizzata durante l'adolescenza, la prima lei proprio a dire che quell'altro Bellavia meritava di essere bullizzato. Poi c'è un Giovanni Ciacci che ha portato in tv la sua importante testimonianza di siero positivo vittima dei pregiudizi altrui, ma appena visto Bellavia rantolare sul pavimento in preda al malessere della depressione, cosa ha fatto? Gli è passato accanto senza deniarlo di uno sguardo, salutando anche il suo ritiro con un liberatorio. Finalmente ce lo siamo tolto dai caglioni. E poi c'è Vilma Goich, la grande cantante, una madre che ha da poco perso la figlia, condizione talmente innaturale che non esiste in italiano un sostantivo per definirla. Eppure per Bellavia Vilma Goich ha avuto solo problemi di rimprovero, che alle orecchie di un depresso saranno suonate probabilmente di disprezzo. Questo ennesimo esperimento di lockdown tra persone che non si conoscono conferma che il male del nostro tempo, ma forse di ogni tempo, è l'indisponibilità a uscire dal porto del proprio ego, per prendere il mare aperto e lasciarsi sorprendere dalle tante storie che veleggiano all'orizzonte. Si pensava che anime graffiate dal dolore fossero più pronte a cogliere i graffi altrui, guardandoli senza giudicarli. Invece la piccola vicenda televisivo, di cui sta parlando mezza Italia, forse per distrarsi dalle bombe e dalle bollette, ci rammenta come nessuno più di una vittima sappia indossare i panni indifferenti del carnefice. Sto rileggendo, mi dico, forse non so nemmeno se è giusto dire nessuno più di una vittima. Sicuramente che anche le vittime sanno indossare i panni del carnefice e non ce la fanno. Diciamo, quello che hanno sofferto non funziona da vaccino, purtroppo, nel loro caso. Alessandra commenta una vergogna indescrivibile a dimostrazione che le persone in uno spazio chiuso, senza impegnarsi in niente, vomitano fuori tutta la rabbia repressa, la stupidità e la spietatezza di cui sono capaci. Quanto è vero, Alessandra, io penso che alla base del fenomeno degli odiatori da social ci sia proprio questo. Io sono convinto che quelle stesse persone che chiuse in una stanza con il computer vomitano insulti, minacce a chiunque, magari se invece stessero per la strada con quelle stesse persone a parlare, magari ci discuterebbero anche, ma non raggiungerebbero quei picchi d'abiezione, perché la chiusura, parola che io detesto proprio perché in tutti i sensi la parola chiusura è proprio una parola che indica un qualcosa di marcio, di stagnante e dalle cose marce stagnanti di solito escono cose putrefatte. Vagna Barsacchi scrive, alla fine il messaggio che passa da storie come questa è solo uno. Le bassezze e le pochezze, scusate la doppia z da Romagnolo che pizzica, le pochezze umane messe in piazza sono fonte di guadagno. La cattiveria fa udines e caravagna si purtroppo non da oggi, da millenni, d'altronde pensi ai film che guardo, ai libri che legge, quasi mai sono storie felici d'amore o storie di persone tranquille e serene, sono tutte storie di traumi, dolori, conflitti, liti, risse. Si progredisce anche attraverso il conflitto l'importante, e in questo ha notamente ragione lei, e non compiacersi del conflitto ma lavorare per tentare di superarlo. Infine volevo leggere un caffè dedicato a due categorie di italiani meravigliosi che ci hanno accompagnati in questi secoli i medici e gli insedianti e i maestri, che invece oggi sono, diciamo così, nell'occhio del ciclone. C'era una volta un'Italia che non credeva in nulla, come adesso, ma venerava le due figure che rappresentavano lo stato laico, il medico e il maestro, se c'erano anche il parroco, il carabiniere, ma il medico e il maestro, la salute e l'istruzione pubblica, erano un vanto, una conquista, e coloro che le incarnavano godevano di stima diffusa e del rispetto generale. Davanti al dottore della mutua mio nonno si toglieva il berretto, e qualsiasi decisione dei miei insegnanti, anche la più ingiusta, soprattutto la più ingiusta, veniva considerata da mio padre un verdetto, sacrosanto e insindacabile. Poi è successo qualcosa, o forse di tutto. Sta di fatto che la ribellione di massa contro le autorità costituite ha riguardato soprattutto quei due ruoli, e non passa giorno senza che ci tocchi leggere, come ieri, di un giovane medico che vuole scappare dal pronto soccorso di Firenze perché non ce la fa più a reggere l'invadenza e l'insolenza di pazienti e parenti. Poi c'è quel professore di Bari, Vincenzo Amorese, raggiunto e picchiato in classe da due sconosciuti dopo aver osato qualche ora prima mettere una nota a una studentessa che lo aveva pubblicamente insolentito. La primizia, se così si può dire, è che di questa storia persino la preside si è schierata con la ragazza anziché col professore. Ci auguriamo naturalmente che abbia ragione la preside, ma se così non fosse dovremmo riconoscere che chiunque cerchi di far rispettare qualche minima regola passa ormai per un fanatico, privo di quella dose necessaria di flessibilità che è la parola ipocrita dietro cui si nasconde la nostra resa. Commento di Giovanni Di Leonardo, la perda totale ed esolante di punti di riferimento e del rispetto della professionalità. E la parola rispetto è quella che ha colpito di più, anche Giovanna dice qui più ancora della ribellione manca proprio il rispetto dell'altro. Questo è un fenomeno generale, la mancanza di rispetto, ma colpisce che la mancanza di rispetto tocca delle categorie che si legittimavano agli occhi di tutti, come dei rappresentanti proprio dello Stato, cioè come figure super partes, il medico e l'insegnante. È un mondo che cambia e io non voglio chiudere con una nota cupa perché abbiamo già talmente tanti in giro, questa settimana vi ho risparmiato come vedete le ansie per le bollette e per le bombe atomiche, però certamente prendere consapevolezza di questi fenomeni è già secondo me un modo per cominciare a tentare di risolverli. Vi auguro una bellissima settimana. Al prossimo Ammazza Caffè. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari, in redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.